Questo video riguarda i migliori tre presse da stiro. Il vincitore della qualità nel nostro presse da stiro va al Singer Supernova. Nuova stiratrice a vapore dalle elevate prestazioni. La pressa da stiro Singer Supernova può stirare e lisciare rapidamente e facilmente qualsiasi indumento. La pressa da stiro Singer si riscalda velocemente e ti permette di avere un vapore continuo e costante per una rimozione delle grinze e rughe rapida ed efficace. Le molteplici modalità di stiro a vapore soddisfano qualsiasi esigenza di stiratura quotidiana. Il vapore generato al primo livello è adatto per rimuovere la maggior parte delle rughe dei tessuti. Tempo di riscaldamento è pronta per lo stiro in soli 45 secondi. Pressa da stiro a ricarica continua per una stiratura non stop e potenza di vapore costante e illimitata. Il grande spazio stiro permette di stirare superfici di tessuti molto grandi, tende, tovaglie, lenzuola e anche pantaloni, camice, magliette e molto altro. Puoi stirare di tutto, qualsiasi capo, anche le camice e le parti più difficili dei tuoi indumenti. L'impugnatura ergonomica della pressa da stiro ti permette di stirare agevolmente in tutta sicurezza e senza fatica. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il speedy press doppio. Pile di vestiti da stirare come al solito, usi ancora un ferro tradizionale. Beh, ora puoi ridurre del 50% i tempi di stiratura con questo sistema a pressa di stiro steam press, ideale per grandi famiglie con molti panni da stirare. Questa pressa da stiro può essere usata sia in piedi che seduti. Per questo prezzo esclusivo, solo online, è un oggetto di straordinario valore che ti farà risparmiare molto tempo e fatica ogni settimana. Con il suo supporto a rifrazione di calore, la piastra riscaldata in teflon e i potenti getti di vapore, steam press darà alla tua stiratura un tono professionale, ogni volta che la userai. Puoi usarla sia per stirare a secco che con il vapore, grazie ai suoi controlli comodi e intuitivi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premio nel presse da stiro è il Singer 260 Peseta Spagnole T. Il grosso spazio permette di stirare superfici di tessuti molto grandi, tende, tovaglie, lenzuola e anche pantaloni in pochi e semplici passaggi. L'impugnatura ergonomica ti permette di avere a portata di mano direttamente sul manico, due tasti per il pronto vapore. L'ampia area di lavoro permette di avere a disposizione una superficie pari a 10 ferri da stiro in contemporanea. La comoda gestione di tutti i tessuti e dei programmi da stiro a portata di dita. Hai fino a 5 diverse impostazioni di tessuto. La pressa si scalda in soli 45 secondi e produce fino a 70 grammi al minuto, per una potenza di vapore costante e illimitata. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.